Sesto giorno di sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni. Treni, autobus e metropolitani in servizio, marranghi ridottissimi e lunghe code che sono arrivate anche a 400 km totali nelle principali vie di comunicazione dell'Ire de France. Il caos nel traffico, secondo gli organizzatori della protesta, proseguirà per tutta la settimana. Le conclusioni dell'alto commissario per le pensioni, Jean-Paul Delvoyé, dopo diversi mesi di consultazione, non hanno convinto le parti sociali. L'esponente del governo ha dichiarato che lo status quo è insostenibile e il progetto di riforma è indispensabile per sostenere il sistema e ha sottolineato che persistono punti di disaccordo, tra cui l'entrata in vigore del nuovo sistema nel 2025 o l'età di equilibrio stabilita a 64 anni. Alla fine dell'incontro, però, diverse organizzazioni sindacali hanno espresso il loro dissenso, ritenendo i negoziati non costruttivi e criticando la mancanza di risposte alle proposte come quella di tenere conto degli anni di studio nel calcolo della pensione. Un progetto, quello della riforma, definito da molti una nuova ingiustizia per tutti. Intanto lo sciopero sta paralizzando il paese, anche le scuole sono chiuse e a Parigi i genitori sono disperati. Un altro giorno di caos, dice un padre, soprattutto a causa del sistema dei trasporti e della scuola. Se le mie figlie stanno a casa, per loro non è un problema, ma io devo andare al lavoro. È complicato, dice un altro, non è come il solito sciopero, ma sostengo la loro azione al 100%, perché appiattire l'intero sistema non è la soluzione. Abbiamo molto denaro in Francia, ma il problema è che viene usato male.